Ricorderò per sempre il 5 novembre. A scriverlo è Alessia Scarso, figlia dell'avvocato modicano Carmelo Scarso, morto lo scorso 4 settembre dopo un'estenuante malattia. Per me il 5 novembre rappresenta una data simbolica, scrive Alessia. Oggi è il giorno in cui a mio padre, gravemente malato, era stato fissato un appuntamento per una visita medica al Policlinico di Catania, unico reparto in Sicilia autorizzato a somministrare un farmaco in grado di ottenere risultati contro la patologia di cui soffriva. Esiste una rete tra medici che consente in gravi casi di interloquire con determinati reparti, anche solo a livello informativo, e nemmeno attraverso quella rete si è potuti entrare in contatto con il Policlinico Etneo, che ormai era tempo di ferie e tutti avevano diritto a riposo. Era giugno quando abbiamo chiesto l'appuntamento, ricorda Alessia nella lettera, agosto quando abbiamo insistito. Mio padre, dopo tenace lotta, ci ha lasciati ai primi di settembre. Se il Policlinico fosse stato l'unico interlocutore al quale avessimo chiesto aiuto e supporto, la nostra pace sarebbe compromessa. Fortunatamente ci siamo trovati nelle condizioni di poter chiamare il Policlinico Gemelli a Roma e ottenere velocemente una visita a pagamento con un luminare della pneumologia, che ci ha delicatamente esortati a comprendere che la situazione era così grave che quel famoso farmaco non avrebbe inciso in maniera significativa sulle condizioni di salute generali di mio padre. Lo stesso luminare ci ha raccomandato di rimolgerci alla pneumologia del Policlinico di Catania, definendola d'eccellenza. E però l'appuntamento rimaneva fissato al 5 novembre. Abbiamo tentato allora di riporre speranze in un'altra eccellenza siciliana, l'ISMET di Palermo, ma alla data di oggi non è ancora pervenuta la loro interpretazione della cartella clinica che gli avevamo recapitato. E' curioso come non solo interi reparti siano difficilmente accessibili in tempo di ferie, ma anche i servizi rallentino drammaticamente il loro già claudicante corso. Li conosci subito i professionisti che hanno scelto la missione e quelli che hanno scelto la carriera. Alla fine in famiglia abbiamo deciso di fare alcune terapie fuori dalla Sicilia, perché succede che un giorno non funziona la TAC e un altro giorno ti arriva la telefonata della PET in manutenzione mentre sei già in viaggio per il Cannizzaro di Catania. Tutto questo accade in Sicilia e sembra sparire al di là dello stretto. Una signora in un ospedale di Palermo aveva detto «Da noi si fregano i farmaci e chissà cosa ci mettono nella chemio». Ipotizzava che dalle sue parti venissero somministrati altri farmaci blandi invece che i chemioterapici corretti. Leggenda popolare, questo la mia mente elabora, nonostante qualche mese prima ci fosse stato un furto di farmaci antitumorali all'ospedale di Ragusa. Io non ce l'ho il coraggio di pensare che quella signora possa aver ragione. Papà era convinto che bisognava molto fare e poco prendere. Io voglio azzardare, fai bene il tuo. Tra il fare e fare bene passa veramente poco. E in quel far bene e nella prontezza del personale del 118 e negli occhi degli infermieri di rianimazione e nei medici stanchi e nei farmacisti gentili e nella prontezza, nella fermezza, nello studio, nella preparazione e nei sorrisi e nell'amore che si accompagna a una persona malata verso un destino. Qualunque destino sia.